e allora io vorrei intervistarti Giorgio come se parlassi direttamente con Adoniesis ho questa diciamo oso fare una cosa del genere, dico oso non per niente perché la intelligenza di cui stiamo parlando è quella che coordina e governa il creato quindi io lo dico anche simpaticamente certe cose ma in realtà non c'è tanto da ridere ragazzi io faccio un po' il buffone qualche volta per sdrammatizzare argomenti di un'importanza in realtà enorme stiamo parlando come abbiamo detto anche oggi degli argomenti più importanti della storia dell'umanità personaggi come Giorgio sono personaggi che segnano la storia del mondo con l'ispirazione di queste deità solari e allora io col tuo permesso Giorgio inizierei subito con la prima domanda, ho raccolto le domande dai ragazzi dai giovani innanzitutto una domanda che rivolgo ad Adoniesis è ma quando questi fratelli dello spazio come è capitato diverse volte anche a molti dei presenti passano nel cielo e magari rispondono anche ai nostri saluti con dei flash luminosi eccetera ma sono delle persone che si trovano all'interno di quegli oggetti e dicono ah guarda un po' c'è tizio che sta salutando ricambiamo il saluto che ci sembra una brava persona oppure invece è un qualcosa che viene organizzato a priori anche perché loro sono diciamo al di là dello spazio-tempo come noi lo intendiamo possono coordinare le situazioni addirittura metterci in testa a noi di fare i saluti quando loro già sanno che questo avverrà e quindi preparano allestiscono apparecchiano qualcosa che serve per risvegliare le nostre coscienze ecco che cosa avviene in quei momenti quando c'è questa interazione è un'interazione da uomo a uomo da uomo della terra a uomo dello spazio oppure c'è qualcos'altro niente succede per caso tanto buonasera e grazie a tutti non succede niente per caso Marco quando un'astronave si fa vedere da una persona qualsiasi un cittadino comune che in quel momento è un cittadino comune non sono non sono lì per caso non stanno passando per caso e se la persona il testimone un testimone due testimoni dieci testimoni mille testimoni vedono il segno è che quello quelle persone hanno una cioè gli extraterrestri hanno un progetto con quelle persone lì allora un tale ragazzino che aveva 13 anni un ragazzino che aveva 13 anni nello studio dove lui faceva i compiti di scuola il primo liceo 14 anni e si affaccia al balcone e vede un'astronave tipo quella di Adamski che stava bamboleando stava facendo tipo 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 mi sentite si vero foglia morta e era lì passava quell'astronave un UFO e quel ragazzino si chiamava Giorgio Buongiovanni in piazza Floridia paesino sperduto della Sicilia dove Dio persino si è dimenticato le pantofole dove sono nato io e ho vissuto insieme a mio fratello Filippo nel 1978 c'erano decine di astronavi sulla piazza perché si facevano vedere perché ridicolizzavano i due fratelli Buongiovanni che avevano il maestro arrestato per truffa Eugenio e questi si sono fatti vedere la gente è rimasta sorpresa quindi non erano per caso un signore credo di 57 58 anni negli Stati Uniti d'America era con la moglie in spiaggia e vede un'astronave grandissima era una persona famosa era un senatore ma passava lì per caso l'astronave questo signore poi arriva alla Casa Bianca si chiamava Jimmy Carter e dice ho visto un'astronave extraterrestre rivelerò tutto sugli UFO poi non gliel'hanno permesso quindi quando vedete un'astronave non è mai per caso sono loro che vi contattano perché c'è un progetto insieme a voi con voi o con altri non sono lì per caso assolutamente e ci sono loro dentro senza dubbi questo è importante grazie Giorgio molto importante sapere che che c'è un disegno loro sono anche qui stasera per esempio insieme a me anche se non li vedete forse forse li vedrete dipende da loro ci deve essere una ragione a loro non piace fare spettacolo o dare anche un saluto di cordialità loro vivono su un altro diciamo dimensione poi in questo momento c'è poco da salutare mi dicono gli extraterrestri dobbiamo solo operare quindi se li vedrete stanotte c'è un motivo ben preciso che riguarda l'opera se non li vedete avete visto avete ascoltato diciamo la voce di uno che li rappresenta e infatti e infatti quindi possiamo anche dire che questo disegno che c'è quando loro si mostrano cioè loro non fanno niente per caso quindi è comunque un disegno che viene deciso dall'alto da chi sta ancora più in alto non è che loro dicono facciamoci vedere loro sono in sintonia con una intelligenza superiore chiamiamola divina che comunque li guida loro sono in sintonia con un signore che io chiamo Adoniesis ed è il garante per questo sistema solare dell'intelligenza divina appartiene alla settima dimensione ed è il monarca universale lui dirige tutte le operazioni di questa confederazione che non è solo il nostro sistema solare sono miliardi e miliardi di galassie qui comanda lui ma lui ha i suoi colleghi sparsi in tutti i sistemi solari hai detto bene prima il creatore dell'universo perché lui non è solo lui dentro di sé ha lo spirito santo come ce li hanno tutti gli altri esseri divini cristici come Cristo per esempio quindi lui questo essere che vedo alle mie spalle che è ben rappresentato qui con una bella luce quello è il volto reale così l'ho visto io così l'ha visto Eugenio Siracusa malgrado avesse una camera una macchina fotografica degli anni 70 che era obsoleto però oggi l'avrebbe fotografato così come lo vedete in questo momento perché gli occhi sono i suoi il volto l'abbiamo dovuto creare con l'intelligenza artificiale ma è ricavato da quella fotografia e poi io l'ho visto quindi ho ricevuto delle istruzioni da parte sua in merito eccolo qua quello è Adoniesis e quel dio che si manifestava nella Bibbia molto severo e molto giusto è sempre lui che da da allora e forse addirittura da prima fin dai tempi di Atlantide o anche prima ma non è il dio Javè che uccide i bambini che fa le guerre questo è Adonai Adoniesis è il dio dell'amore e della giustizia il padre di Cristo in sostanza il nostro creatore quindi questo archetipo Adonai e Adoniesis diciamo sono la stessa entità Adonai Adoniesis e Cristo sono la stessa essenza e Adonai e Cristo sono due entità diverse ma la stessa essenza perché contengono dentro di sé l'intelligenza onnicreante che noi chiamiamo poi Mandeles pastore di uomini quindi nel momento in cui non so se parlo arabo ma questo è il mio linguaggio noi cerchiamo di capire quindi nel momento in cui un essere realizza questa identità divina questa questa intelligenza onnicreante diventa diciamo tutt'uno con tutti gli altri che l'hanno realizzato già e con tutti gli altri che lo realizzano con tutti gli altri esseri ovviamente di quel livello diventano come una una comunione escono da un punto su una retta punto e diventano un punto su un volume quindi il punto sulla retta lo spazio il tempo è piccolissimo la dimensione è striminzita è una retta ma quando tu esci e diventi un essere superiore della quinta dimensione diventi un punto sei un puntino che contempla tutto il volume tutto il cosmo quindi diventi cosciente della verità e sei vicino ad adoniesis che è il volume tu sei il punto dentro il volume concetti immensi ma quando questo immenso personaggio si serve di uno strumento umano che lo personifichi per svolgere una missione lo strumento umano prova quello che significa essere lui sì provi due emozioni una che ti senti tutto e l'altro che ti senti niente solo se ti senti niente puoi sentire davvero il tutto dentro di te perché appena ti senti qualcosa o vuoi possedere qualche cosa diventi uomo col tuo ego con la tua personalità tu pensi di possedere di avere ma non hai niente quando invece sei cosciente che non è niente non sei niente sei un'entità che può solo godere di questo tutto allora sei il tutto grazie questo lui mi ha insegnato questo più lui mi parla più mi sento un servitore è un vostro fratello sono qua per questo perché lui vuole questo poi io mi sono annullato cioè ho tolto il libero arbitrio che è importante indispensabile fondamentale per gli uomini per voi ma non per me solo così posso essere lui se no sono io a me piace essere lui senza libero arbitrio cosciente che sono sempre un essere della terza dimensione o al massimo della quarta che lui utilizza per manifestarsi in questo modo invece di nascere si manifesta in questo modo ma io sono uno lui mi ha detto io ho mille bocche mille occhi e mille orecchie nel mondo tu sei però la mia voce questo si per ora appena dirò caro Doniesis mi ridai il libero arbitrio lui me lo ridona subito ma non sarò più lui quindi non lo voglio il libero arbitrio se lo venga oggi proprio parlavamo del libero arbitrio con le persone qui presenti ma vi siete moltiplicati siete il doppio di oggi fa miracoli adesso magari farà calmare il vento o farà arrivare un uragone prima ho detto io mi è stato proibito di dire cose che ho visto frequentando Giorgio Bongiovanni io ho il divieto di dire certe cose chi ti ha detto questo io stesso posso sempre cambiare però abbiamo visto cose abbiamo visto cose importanti no sempre perché lui che guarda io avevo perso Doniesis di vista ma è stato lui è stato sempre con me prima lo era con il mio padre spirituale Eugenio io vedevo lui negli occhi di Eugenio sempre da bambino poi ho avuto l'apparizione della Madonna di Gesù e Gesù per me rimane anche anche l'essere più importante di Adoniesis stesso perché si è incarnato il nostro Signore ma è Adoniesis che vuole che io dica questo ma me lo ha ordinato tu devi dire che mio figlio è più importante l'essere per la vostra salvezza e io ubbidisco vedi non mi faccio nemmeno domande però posso rispondere a tutte le domande prego e proprio oggi parlavamo del libero arbitrio che è comunque una sorta di passaggio che è una scelta che poi viene abbandonato questo libero arbitrio viene lasciato è quello che stai vivendo tu quindi noi in te nelle cose che ci dici stiamo vedendo un processo evolutivo che sta avvenendo è una scelta è indispensabile per l'uomo che deve reincarnarsi che deve fare esperienze ma per un messaggero puoi scegliere di tenerlo o di lasciarlo lasciarlo significa che perdi tutto tutte le cose materiali tutto se hai un amante una fidanzata una moglie dei figli dei soldi ma non perdi che vanno nella spazzatura o ti odieranno non non li senti più tuoi perché hai scelto di servire questo essere ma il quale ti può dare cento volte di più però tu sai che non è tuo cioè che appartiene a lui al suo disegno ancora dobbiamo dire meglio al suo disegno perché il suo disegno non è su Giorgio il suo disegno è sulla comunità sulla nostra comunità giovannea e sull'umanità io devo essere solo parte di questo disegno qualora io usufruisco del mio libero arbitrio posso essere in sintonia con lui ma ci sono delle probabilità che non lo sia perché io vivo in una dimensione spazio tempo lunghezza larghezza altezza altezza io vivo le mie esigenze fisiche umane intellettuali sentimentali cerebrali fisiche anche psichiche quindi posso discernere discernimento è il valore più importante nell'uomo ma se tu sei strumento di un personaggio come appunto Doniesis a che cosa ti serve il libero arbitrio quando tu sei cosciente di tutto lui ti può mettere alla prova anzi ti mette alla prova per vedere se tu usufruisci della tua mente ma quando le prove quando lui ha la certezza che tu sei fedele la prova sei tu rispetto agli altri lui ti utilizza per mettere alla prova gli altri questo è molto interessante eh sì perché tu ti sei annullato in lui cioè se io devo vivere un'esperienza nella vita io sono un uomo libero ma se io mi annullo nella sua volontà è lui che attraverso di me vuole porre in essere quel disegno ecco perché ti ho detto anche in forma intima servire essere suo tramite devi essere pronto a rinunciare a tutto senza soffrire e questo è molto difficile io ci ho messo trent'anni non un giorno 10.000 sanguinazioni e circa 70-80.000 conferenze per essere senza libero arbitrio grazie Giorgio prego lo so che è difficile comprendermi ma mi sforzerò per spiegarvelo poi questo è un pubblico preparatissimo non devo fare esempi stupidi banali come faccio sempre devo andare direttamente al sodo spero che ci riesca però mi sto dicendo la verità grazie e so anche che lui può lasciarmi in qualsiasi momento e dire a posto basta sei libero e io gli dirò padre come sono libero se ho tolto il libero arbitrio ma farò quello che vuole lui se non se ho scelto di non averlo se lui mi dice sei libero e sarò libero se mi dice non sei libero non sarò libero voglio eseguire la sua volontà so mi fido di lui però c'è un fatto molto interessante molto interessante e che non è da sottovalutare Marco lui si fida di me e se Dio si fida di te cosa vuoi più della vita puoi anche morire prego non è facile fare domande venite chi volete venire al mio posto ho girato già cinque fogli perché ha risposto a cento domande senza che le facessi non lo so non ho più cose adesso prendo le domande quelle un po' meno iniziatiche e allora veramente grazie è vero ho girato quattro fogli perché mentre lui parlava io ok questa risposta questa risposta proprio perché io lo dico ridendo ma questa è una delle dimostrazioni di questa ispirazione di questa presenza perché lui legge i cuori legge la mente legge il presente passato e futuro lui ha piacere di stare con voi davvero ed è molto geloso della vostra identità cioè vi ama tantissimo ed è geloso quindi vi protegge da chiunque vuole farvi del male grazie ma non questo ve lo dice Giorgio vostro serve è servo suo non traditelo perché poi lui è molto severo possiamo sbagliare cadere per terra siamo umani ma tradirlo non è tollerante non tollera l'inganno e nemmeno il tradimento l'errore si il peccato si suo figlio ha perdonato tutti noi ma il tradimento non lo tollerano perché significa essere vigliacchi e irriconoscenti siccome lui perlomeno a me quando gli chiedo ho bisogno lui mi aiuta tramite i fratelli in tutti i sensi salute esigenze economiche se devo espritare una missione cioè io io dormo sonni tranquilli quindi la toniesis è fedele a noi noi dobbiamo essere fedeli a lui se no facciamo la morte seconda ma come si fa ad ingannare o a tradire un essere del genere non come si fa nel senso io non lo farei mai cosa gli passa per la testa che lo fa no ma in che termini è possibile tradire un essere del genere aiutaci a permetterci anche in guardia dai nostri comportamenti con la gelosia con l'invidia con l'odio e con l'ego questi sono modi di no sono gli unici modi anche se poi noi li nascondiamo io non sono geloso invece sei geloso io non ho ego invece c'hai l'ego io non ho odio io amo tutti invece stai odiando così lo tradisci e poi la somma finale che non è vero niente che Marco Marsili è un pazzo mi ha truffato mi ha ingannato non è che dici a Doniesi se mi è ingannato Giorgio è un pazzo è un truffatore si è inventato tutto ma intanto sta ingannando lui perché quelli sono i suoi strumenti e allora è meglio che tu non fossi mai nato se lo inganni è quello che Gesù ha detto a Giuda quindi se noi scegliamo questa strada di servire il Cristo con libertà perché vedi la scelta è libera poi ti vuoi tenere libero arbitrio o meno ma comunque sei tu che scegli questo lui ce lo impone che noi scegliamo altrimenti siamo schiavi io ho scelto di non voglio libero arbitrio cioè lui sta lì ogni minuto che me lo vuole dare però non mi vieta di non mi vieta di non averlo perché lui così opera su di me in un modo molto più veloce e rapido e senza prove certo delle debolezze umane me le lascia che sono mie non sono sue ma perché vivo nella carne cioè ho bisogno di mangiare bisogno di dormire bisogno di andare in bagno ho esigenze fisiche a parte che 60 anni grazie a dio non ne ho quasi più anche di questo sono contento più perdi la sensorialità più sei in lui perché c'è solo la emozionalità più vai perdendo la sensorialità il valore sensoriale e acquisisci quello emozionale più lui ti assolve se sei ancora legato a valori sensoriali legittimi legittimi assolutamente lui sta lì un po' nelle retrovie più ti sposi con il valore emozionale più lui diventa con te una sola cosa c'è un modo per accelerare questo distacco dalla sensorialità perché non è facile qui è tutto sensorialità non lo so qual è il modo l'istinto e forse ecco questo magari lui che me lo sta dicendo lo spirito vecchio millenario che c'hai dentro se no non ce la fai perché le attrazioni della giostra ti portano via invece non lo so io mi sento a volte Marco quasi in colpa ti giuro perché amo dai miei figli a mia moglie ai fratelli alle sorelle però solo se c'è la causa quindi alla fine io sono innamorato della causa il resto è una conseguenziale tutto ciò che può dare Marco posso grazie tutto ciò che può favorire il suo disegno io mi innamoro ecco questo volevo dire mi stavo ingarbugliando quindi questa volta mi sento in colpa come se io non guardo la persona ecco per esempio io vedo un'apparizione di un essere bellissimo ecco mi innamoro se lei perché è una lei è dentro la causa però lei rimane bellissima ma se non lo fosse sarebbe insignificante per me anche osservarlo questo può essere dice ma tu ami più la persona no io devo sposare le due cose la causa del padre e la persona si fondono e quindi vedo un essere meraviglioso ma se non c'è nel suo cuore la causa non mi fa intendere che lei esiste o meno a me non interessa è indifferente eppure è sempre la stessa persona bellissima straordinaria meravigliosa guardala ecco però perché perché mi innamoro perché lei è nella causa c'è cioè è in lui ecco questo perché magari per capire meglio per far capire meglio cosa significa che lei è nella causa e che in lei c'è la causa è amata da lui da Doniesis se è amata da lui io mi innamoro se per lui è indifferente lo è anche per me e non è perché sono un copione di lui perché lo sento dentro questo è per me la bellezza assoluta o il dramma dipende dai punti di vista perché sei un essere umano hai per esempio io i gusti io ero innamorato ero innamorato di alcuni gusti cibi adesso li vomito o non hanno la vibrazione che vuole lui o non lo so però sono piccole cose che ti faccio capire che può essere inquietante da un lato invece da un altro magari essere ordinari parlavamo di cose umane no? sì non scendo su altre particolarità intime ma te le lascio immaginare sono quasi eterico infatti sono qui stasera con voi mi piace fare il lavoro antimafia quello lo faccio perché è nella sua causa se no sono un po' isolato dal mondo a me non mi va più di stare nella società mi viene difficile molto difficile quando vado nelle stazioni che spesso prendo il treno perché ho appuntamenti antimafia importanti ma io soffro come un pazzo in mezzo alla gente perché sento tutti scusate la parola le masturbazioni mentali le fisse le ossessioni che ha la gente sento solo due argomenti sesso e soldi perché io sento telepaticamente cosa si dicono non è colpa mia mica faccio il guardone o l'orecchione però li sento soldi sesso litigi gelosie e alcuni progetti criminali come fai a stare con loro? non c'è mai quando sento uno che dice il signore mi avvicino e faccio in modo di di farmi conoscere di interagire sì uno su cento anzi uno su mille ti rendi conto? uno su mille parla di Dio della vita della terra tutti parlano di soldi e sesso alla fine posso anche accettare il fatto del sesso nel senso che è animalesco è una questione istintiva naturale se non è perversione quando è perversione è bestiale ma se invece di soldi non lo sopporto perché ad ogni esi si vede con gli occhi che siamo malati mentali siamo abbiamo una malattia mentale la più pericolosa della galassia è la più perversa è la più criminale gente che si uccide che si ammazza si tortura che uccide i bambini per inginocchiarsi di fronte a un pezzo di carta con dei numeri 50 100 che ha innalzato questo pezzo di carta che non è nemmeno buono per l'igiene sanitario del bagno e si inginocchia si uccide si scannifica si conquistano territori si torturano bambini e si fanno delle guerre addirittura possono fare una guerra nucleare per causa di questi pezzi di carta con dei numeri quindi una civiltà extraterrestre o uno come Adoniesis che può dire quelli sono cioè una malattia spirituale irreversibile non lo puoi guarire quindi la devi annientare per ricostruirla siccome ci sono esseri come voi che vi ho qui davanti e forse a casa anche altra migliaia che invece dei pezzi di carta non gliene frega tanto e vuole evolversi e allora vale la pena per Adoniesis venire qua capito prego grazie scusa se mi sono dilungato eh no è importante sì grazie veramente sono concetti importantissimi qui la scaletta è saltata completamente perché 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 ti seguiamo sì prego io comunque se tu mi ordini di rispondere più sintetico lo faccio ma assolutamente siamo felicissimi di ascoltarti di seguirti nei tuoi ragionamenti che ci portano a capire tante cose importanti per la nostra vita volevo chiederti Giorgio Adoniesis o le deità solari che venivano conosciute dagli antichi popoli della terra non soltanto dagli antichi profeti magari a volte anche da popoli interi magari si sono anche manifestate a dei gruppi come si manifestavano sempre come noi ce li immaginiamo dai disegni che sono stati fatti o dalle fotografie che abbiamo oppure usavano altre forme altri metodi usavano sicuramente anche allora la personificazione rispetto ad oggi si facevano vedere quello lì Adoniesis l'ha visto così come lo vedete adesso Abramo come l'ho visto io quando avevo 13 anni e come l'ho visto negli incontri pochi fisici che ho avuto pochissimi e quindi anche con le astronavi il carro di fuoco di Ezechiele era un'astronave che è atterrata la nube che accompagnava il popolo di Israele sul monte Sinai era un'astronave gli angeli che hanno parlato ai pastori che si recavano alla grotta di Bethlehem dove è nato Gesù erano esseri di luce a Starsher si facevano vedere fisicamente perché il popolo era più semplice adesso ci sarebbe una doppia reazione o violenta oppure eccessivamente emotiva e quindi si fanno vedere moderatamente oggi però ti anticipo che ci sarà un grande contatto tra gli extraterrestri e l'umanità e questo non me l'ho ancora detto Doniesis quindi non ti posso mentire ma ho ragione di credere che lui personalmente con quel volto si presenterà al mondo insieme altri due accompagnatori e facendosi vedere filmare eccetera darebbe un messaggio o starebbe zitto e direbbe parla figliolo e il figliolo parlerà se sono io sei tu uno dei suoi strumenti ecco anche questo è molto interessante una prospettiva che ci piace io gli ho chiesto gli ho chiesto questo se lui lo può fare lui non mi ha detto non lo farò non mi ha detto nemmeno di sì mi ha ascoltato se può contare qualcosa uniamo anche alla tua richiesta uniamo anche la nostra la nostra intenzione certo perché lui sa che viene dal nostro amore cristico che suo figlio ci ha insegnato non è una richiesta morbosa è una richiesta di aiuto e non a me io li ho visti ai miei fratelli che siete voi ma lo decide lui ma questi esseri che erano con cui aveva a che fare Eugenio che sono stati chiamati Link Ohara Vodok eccetera Astarsher Itacarra Ali Maclera ecco c'è stato diciamo al di là dei nomi c'è stato un cambio generazionale oppure sono sempre loro oppure sono stati sostituiti da altri perché è anche possibile questo altre missioni no sono tutti presenti oppure addirittura qualcuno magari si è proprio incarnato che ha deciso di di nascere non mi risulta non mi risulta l'unico che si è incarnato ma non nel modo che che voi siete abituati ad Onesis niente il capo dei capi e c'è una domanda ce ne sono alcune proprio perché io ho detto ragazzi preparate domande per Adonesis cioè parlate con lui e qua siamo e allora ce ne sono alcune proprio rivolte Adonesis virgola virgola puoi spiegarsi in che modo riesci ad essere connesso con tutti con tutto e tutti in che modo riesci ad essere connesso con tutto e tutti guardate il sole in questo momento sta illuminando metà del vostro mondo dall'altra parte ma in realtà sta irrorando energia psichica creativa anche qui che siamo di notte ecco l'energia psichica creativa del sole è il vaso circolatorio che comunica con tutte le anime del mondo perché tutte le anime del mondo hanno bisogno in forma vitale dell'energia psichica creante del sole senza la quale morite tutti all'istante attraverso che viene ricevuta nel plesso solare 24 ore su 24 da tutti sia quando fa caldo sia quando fa freddo attraverso questa comunicazione tra energia psichica solare e tutti i plessi solare 8 miliardi di plessi solari che ci sono nel mondo buoni e cattivi io comunico e ascolto tutti grazie prego questo è quello che dice Adoniesis e quello che non vi deve sorprendere è che quando si alza il sole una mattina illumina i vostri santi messaggeri e i vostri criminali più ingalliti non si oscura di fronte ai criminali più ingalliti li illumina anche loro nella speranza che si rabbedano questo fino al giorno del giudizio il giorno del giudizio si oscura il sole e tutti i coloro e tutti perdono il contatto con il plesso solare quindi si si bloccano muoiono ma in realtà non muoiono perché è arrivato il giudizio finale per tutti quindi questo questa è una spiegazione importante anche dei famosi cosiddetti tre giorni di buio di cui si parla in tantissime profezie staccare la spina tra l'energia psichica solare e tutti i plessi solari del mondo quindi lì ci sarà anche il libero sfogo di entità negative ci sarà il blocco totale il collasso totale delle anime in attesa della giudizio che arriva subito però tu mi hai chiesto come fa Donnese sa connettersi con molti no Donnese si connette con tutti se lo vuole o perlomeno ascolta tutti si connette con chi reputa opportuno però lui ascolta otto miliardi di pensieri al giorno perché lui è il sole o l'essere padrone del suo grazie prego queste cose qua a scuola ai ragazzini bisogna insegnare maestre dove stanno queste cose dobbiamo insegnare ai bambini perché si crescono con questa consapevolezza che poi già ce l'hanno interiore loro i bambini però se gli viene sempre soffiata risvegliata per tutte le finché diventano adolescenti si integra bene nella mente qual è adoniesis virgola qual è il modo più semplice per sentire la tua presenza l'amore più ingenuo più stupido e più puro che possa esistere potete avere un esempio ogni seconda i bambini se fate come i bambini la presenza dice adoniesis mia è costante più vi allontanate dai bambini più vi avvicinate al lucifero che è il suo nemico ma in realtà è un suo soldato camuffato da nemico che deve svolgere quel ruolo hai capito cosa ha detto è un suo soldato camuffato da nemico però è davvero un nemico di Cristo perché lucifero ha sbagliato e caduto per gelosia nient'altro il resto era perfetto era un arcangelo perfetto però deve diciamo è costretto dal padre a svolgere quel ruolo attualmente sì gli è imposto perché deve mettere alla prova la debolezza umana cioè la fede umana la fedeltà degli uomini che si reputano credenti perché lucifero non tenta i criminali sono suoi lucifero tenta i credenti o supposti credenti e lui è consapevole che questo è un ruolo che finirà che diciamo è temporaneo anche se magari dura milioni di anni però che è un ruolo temporaneo sì sì lui è uno strumento pasmoticamente cerca il perdono che avrà quando ha completato la sua opere quindi diciamo che lui fa il più male possibile perché per essere perdonato tenta tenta non fa del male tenta il male lo facciamo noi per scelta lucifero non fa del male a nessuno è facile per l'uomo addossare la colpa lucifero delle sue responsabilità ah questo non sono stato ieri il demonio non è vero il demonio è un povero disgraziato che ti tenta poi ti lascia fare o se vuoi ti governa ma non è lui che lo fa sei tu che lo stai facendo tranne i poveri indemoniati che sono delle anime deboli ma ci siamo noi nel nome di cristo che le esorcizziamo oppure devono pagare un karma lì forse lucifero si sta in un certo senso governando ma le povere anime cittadini comuni i grandi indemoniati quelli che i capi della mafia quelli che uccidono i bambini quelli che commerciano in armi in droga non sono lucifero sono stati tentati da lucifero nel fare quello che fa nell'hanno scelto di fare anche io sono stato tentato da un signore che era lucifero attraverso la faccia di uno che mi ha detto ti do 600 milioni di dollari se fai quello che ti dico ma io se io li avessi presi lui che colpa neve io gli ho detto no di no grazie guardi se li tenga e me ne sono andato ma in realtà gli ho detto una cosa che non vi ho mai detto se li tenga e comincia a fare il conto alla rovescia dei giorni che le mancano per essere distrutto da me questo gli ho detto lui non si è arrabbiato è stato indifferente ma mi ha guardato seriamente chi era lì che stava parlando con lui adoniesis tramite me che ho detto di sì alla sua voce quindi lui si è stato zitto che poteva dire se parlava veniva annientato in quel momento non lo so io gli ho detto così penso che era presente il mio grande maestro certamente questi sono argomenti enormi perché è il grande immenso teatro vero della vita con i suoi attori importanti lo sapremo alla fine di questa generazione se era vero tutto quello che vi sto dicendo se non era vero era vero l'amore però che trasmettevo questo non lo può negare nessuno un grande sognatore però se si fanno vedere i miei fratelli direte quello è un pazzo che aveva ragione e così sarà si faranno vedere ci puoi scommettere Adoniesis come vivi la sofferenza vedendo quello che combinano i tuoi figli sulla terra attraverso attraverso le lacrime della Madonna Santissima Madre sposa sua perché lui è madre non è solo padre attraverso quel dolore vive la tristezza con le lacrime di sangue della Santissima Madre oggi parlavo con i presenti del fatto che da qualche mese mi sono messo a studiare le apparizioni della Santa Madre e allora solo negli ultimi 150 anni 170 anni sono migliaia migliaia anche fino a ieri in Messico con questa lacrimazione se poi ci mettiamo se poi ci mettiamo le lacrimazioni delle statue e dei quadri non finiamo non finiamo dicevo non puoi fare 10 chilometri con l'automobile in qualsiasi direzione che non arrivi in un posto dove o è apparsa o ha dato un messaggio o ha fatto scaturire una fonte o ha pianto una statue ovunque sempre se ancora esiste l'umanità e non è stata distrutta da Adonai e Adoniesis è grazie alla Madre Santissima cioè questa è la credo stanno per proiettare l'immagine della Madonna che lacrime in Messico eccola qua eccola questa è un'immagine che lacrime in Messico la Santissima Madre di Cristo lacrime lacrime di sangue e continua con questi richiami sempre sempre e allora anche anche oggi sempre fino all'ultimo giorno vuol dire che c'è ancora speranza vuol dire che si devono risvegliare ancora dei giovani più che delle persone dei giovani si devono risvegliare e delle giovani perché devono nascere il popolo di Adoniesis la progeni di Adoniesis devono partorire delle fanciulle sulla terra oltre che risvegliarsi c'è una nuova genetica che sta nascendo bambini e bambine e quindi datevi da fare diamoci io sono vecchio ma posso essere la vostra guida di conoscenza questo si grazie Giorgio grazie tanto Adoniesis virgola spesso dici di essere felice di vivere in mezzo a noi ultimamente diciamo più che spesso ultimamente è successo perché utilizza il mio corpo ma tu vivi contemporaneamente anche insieme ad altre civiltà in questo universo oppure in che rapporto sei con gli abitanti del sistema solare sulle varie dimensioni perché poi noi stiamo qui tra la terza e la quarta ma poi ci sono quelli di quarta di quinta di sesta lui è il capo della confederazione che lavora su questo sistema solare quindi è in rapporto con tutte le creature del sistema solare di tutte le dimensioni e di tutti i sistemi solari di questa galassia e di altre 150 mila miliardi di galassie nel cosmo scusami tu che sei come me riesci a fare contemporaneamente alcune cose in questo momento cosa riesci a fare tenere un microfono tenere dei foglietti leggere guardarmi pensare e muoverti col corpo mentre senti freddo allora parli tieni il microfono tieni con la mano un foglietto leggi mi guardi ascolti sento freddo senti freddo guardi le persone ascolti gioisci ti ho detto 10 cose che stai facendo contemporaneamente in questo istante tu terza dimensione può un essere della settima dimensione farne 150 mila di più sì il computer l'apple o windows fa contemporaneamente 100 cose ed è un pezzo di ferro può una mente volumetrica avere a che fare con migliaia di galassie miliardi sì per loro è una cosa normale per te è una cosa da fuori di testa invece è una cosa assolutamente normale per i geni solari della settima dimensione poi ti devi ricordare che lui non è uno lui è noi cioè lui è la Donesis ma è anche 200 miliardi di stelle che ci sono nella nostra galassia che tutti sono Donesis quindi noi però sono entità diverse sono Marco Giorgio Giuseppe Francesco Andrea ma tutti contengono la stessa intelligenza qui ecco perché sono noi quindi vivono all'unisono vivono all'unisono ma sono entità anche assestanti indipendenti come un'orchestra diciamo sì un'orchestra però il direttore è lo spirito santo o poi mandres l'intelligenza onnicreante la chiama a Donesis quando tu figliolo parli con me stai parlando con l'intelligenza onnicreante che è in me che è in Cristo che è in Krishna che è eccetera che è anche in te solo che lui è più cosciente di me tutto qua tutto qua è un modo di dire tutto qua è che stiamo parlando di farfalletti ciao cane chi è qua fantastico era un cane un quadrupede un essere vivo se l'hai voluto passare qua allora ci sono nel nostro sistema solare o in sistemi in sistemi solari vicini ecco diciamo vicini poi le distanze comunque sono grandi delle missioni missioni uguali o simili a quelle che stai svolgendo su questa terra cioè stai svolgendo contemporaneamente tante cose tra cui anche missioni simili a questa con delle umanità no cocciute per usare un eufemismo no no sono qua mi basta e mi avanza mi basta e mi avanza no ecco ci sono altri geni solari in altri pianeti allora mica tutto tutto uno ci sono migliaia di geni solari in altri in altri sistemi solari ma in questo non c'è solo un gene solare lui è il più in alto è il trono di questo sistema solare settima dimensione ma poi ci sono angeli arcangeli lui ha dodici legioni di angeli che ha dato al suo figlio perché Cristo ha detto se io pregassi il padre mio mi manderebbe dodici legioni di angeli ad ogni esis virgola quali sono i valori che preferisci che noi realizziamo che è preferibile che noi realizziamo tre valori in uno solo fedeltà servizio e umiltà racchiusi in un'unica frase amore vuoi altro? eh no questo è un compendio filosofico serio grazie fedeltà servizio e umiltà che in una frase significa amore come quel bambino che sta giocando è fedele è servizievole ed è umile anche un po' capriccioso ma è tipico dei bambini Giovanni sei capriccioso? eh certo guai se non lo fosse è quello che noi dobbiamo avere se vogliamo essere servi di Dio ma non fedeltà servizio e umiltà a me fedeltà e servizio e umiltà all'opera certamente e anche a a chi Dio sceglie come suo prescelto l'unica cosa che vi chiedo di usare il discernimento e questo è tipico della libertà è di scegliere vivere i servitori di Dio perché a volte cioè noi non dobbiamo confonderci di perdere il libero arbitrio quando siamo sulla strada dell'iniziazione noi dobbiamo rinunciare al libero arbitrio dopo che abbiamo trovato la strada e ci siamo iniziati abbiamo trovato il colui che è messaggero che puoi essere tu stesso durante la strada dobbiamo avere il discernimento la capacità di separare il bene dal male perché Gesù disse attenti ai falsi profeti non è che disse toglietevi il video il libero arbitrio ascoltate tutti quando trovate però i profeti mandati da Dio seguiteli per esempio Gesù dice io vi manderò il consolatore lo spirito di verità seguitelo ecco in quello ci dobbiamo annullare grazie servizio fede fede umiltà a chi Dio manda agli inviati di Dio grazie molto importante anche questo molto importante e poi gli inviati di Dio da cosa li riconosciamo dai frutti dai frutti guarda uno scusa la battuta subito te ne accorgerai da un inviato di Dio se gli sta su proprio sulle scatole il denaro ecco quando vedi uno che proprio lo sbeffeggia non gliene frega niente non lo sopporta lo utilizza proprio perché non ne può proprio fare a meno e lo sbeffeggia quello è 90% un inviato di Dio 99% è anche quasi banale riconoscere i veri inviati di Dio che non importa loro del denaro lo combattono e lo identificano come l'anticristo e poi se hanno il senso della giustizia e se danno la faccia contro il sistema di questa società votata dall'autodistruzione non sono cose difficili da scoprire si vedono chiaramente non esistono messaggeri di Dio che fanno salotto danno lezione spirituale stanno a casa scusa col sedere seduto senza fare niente quelli sono messaggeri di se stessi o di Satana i messaggeri di Dio appoggiano i giusti scendono sulla strada gridano fascisti se c'è fascismo gridano mafiosi se ci sono mafiosi e difendono la verità costi qualche costi grazie prego il discorso delle gelosie e invidia tu sai che ci sono dei gruppi noi le chiamiamo le arche all'interno all'interno di queste arche ci sono anche relazioni umane ovviamente noi le viviamo come diciamo nell'opera quindi nell'operatività nell'attivismo nell'organizzare eventi conferenze eccetera diciamo che più uno ha da fare e meno tempo ha per le stupitagge per fare polemiche quindi questo è anche un po' segreto forse per quindi essere attivi partecipare puoi darci qualche suggerimento per evitare per evitare che magari delle debolezze umane appunto gelosie situazioni di questo tipo possano ostacolare la crescita e l'operatività che è la cosa più importante di un gruppo adesso ho parlato delle arche ma gruppi operativi nel mondo ce ne stanno anche di altri generi quindi questo è un discorso interessante per tutti i gruppi che si prefiggono di raggiungere degli obiettivi socialmente utili allora io ho due consigli posso dare ai gruppi in generale interni a noi e fuori di noi anche che non conosciamo ma che seguono un percorso e il mio suggerimento è molto semplice non fate mai ciò che voi desiderate per voi stessi bellissimo appena fate una sola cosa che serve a voi stessi già siete in tentazione questo bisogna scriverlo a carattere cupidale non fate mai ciò che serve a voi fisico spirituale e psichico fisico se ho una donna spirituale se ho un'esigenza fisico se ho bisogno di soldi un viaggio una soddisfazione personale un'esigenza legittima ecco già siete nell'errore fate solo ciò che serve ai vostri fratelli non sbaglierete mai mamma mia anche se ciò vi procura del male e delle sofferenze ma questo Giorgio come si fa ma io ti ho detto quello che bisogna fare come si fa sono affari tuoi e poi se uno però io lo faccio da 34 anni su tutti sbagliando a volte perché a volte ho esigenze mie mi arrabbio le ottengo ma sono nelle mani del demonio capisco mi ravvedo dico signore perdonami e mi rimetto a disposizione dei miei fratelli quindi avere come primo pensiero il prossimo il tuo fratello si l'esigenza del tuo fratello che non è debolezza se il tuo fratello vuole rubare tu lo fai rubare no l'esigenza è l'amore la felicità la gioia e l'evoluzione del tuo fratello in quel senso in quel senso lo dico no che se lui sta rubando bravo continua a rubare certo nei valori positivi nei valori positivi assolutamente invece per quanto riguarda le arche è ancora più semplice ascoltate la mia voce sempre e affidatevi a me e non vi litigherete mai finché sono sulla terra quando non ci sarò più e la festa finirà alle arche sarà la prova più grande di tutte le arche però spero di andarmene che siete tutti fortificati ma finché sono qua dormite sogni tranquilli ci sono io tutte le settimane nelle arche a evitare che entri il maligno e vi divida anzi il maligno sa che cioè il maligno non ci vuole entrare nelle arche perché ci sono io in questo momento ho altro da fare e quando si insinua io intervengo immediatamente istantaneamente e con grande forza e determinazione grazie Giorgio siamo testimoni anche di questo grazie e allora adesso ma la festa sta per finire caro figlio la festa lo sposo se ne va prima o poi no mica può durare sempre quindi preparatevi grazie Giorgio allora io onestamente lascerei anche un pochino la parola al bellissimo pubblico educato e paziente qui presente se avete se avete delle delle domande intanto pensatele ci sono già ah ci sono già e allora mi servirebbe una ottima palletta c'è la palletta eccola la palletta allora ragazzi io me ne vado perché ho pensato che sicuramente dopo le cose importanti che sono state dette il pubblico può avere delle domande buonasera riporto una frase che è stata detta prima da Marco come ho capito ti devi astrarre emotivamente e guardare dalle se sei sempre coinvolto emotivamente perdi il parametro chiedo cosa vuol dire più precisamente anche perché prima ci suggerivi più acquisisci valore emozionale più sei in adoniesis mi chiedo un chiarimento il valore emozionale è sinonimo del valore astrale emozionale non in quanta emozione umana paura coraggio vigliaccheria odio amore stesso fisico umano cerebrale il valore emozionale è il valore astrale il valore astrale è privo di possesso questa è la mia donna questa è mia mamma questo è mio fratello questo è mio figlio questa è la mia fidanzata questa è la mia famiglia lì non c'è nel valore emozionale astrale questa è mia sorella questo è mio fratello fine non c'è altro non ti appartiene niente il parametro è l'amore cristico incondizionato è il servizio nel caso di adoniesi sei il servizio quindi più tu vivi emozionalmente il sentimento più sei vicino alla dimensione solare se posso voglio spiegare prima si parlava quando io ho detto di astrarsi dalle emotività ovviamente parlavo dell'emotività umana perché parlavo quando tu vuoi valutare la vita di una persona un messaggero ok vediamo i frutti cioè io non posso lasciarmi coinvolgere e quindi poi faccio o esaltazioni o fanatismi devo vedere la realtà è un sentimento umano io parlavo dell'emozione valore emozionale astral interiore ecco emozionale vale per interiore spirituale ho fatto degli esempi io se più dico quella mi appartiene più più cado in tentazione il padre può dire mi appartiene mia figlia mi appartiene perché lui è il creatore ma noi dobbiamo dire siamo fratelli siamo amici siamo al servizio del padre o del figlio è quel il binario il parametro è l'amore senza dubbio l'amore il servizio si fratellanza prego posso sì quando ci sono degli input esterni che ti distolgono da quello che pensi sia il tuo disegno entrano a far parte della tua mente e ti prendono molto più impegno di quello che gli dovresti dare proprio per parametri per eh parti di come si dice di priorità come si fanno a ristabilire quelle priorità per non farsi non facendoci trassinare da tutto ciò che dall'esterno ci arriva per un giovane soprattutto ovviamente la tua domanda è astratta e generica e ti devo rispondere in forma astratta e generica se no andiamo sul personale se sul personale dobbiamo andare vado sul mio personale così non sbaglio se volete prendetelo come esempio ma solo se lo volete io non mi faccio condizionare da niente e da nessuno ma questa logica questa presa di coscienza deve essere radicata dentro di te te cioè devi avere la certezza assoluta di fare quello che stai facendo è perché appena hai un dubbio sbagli tutto e perdi tutto come possiamo fare intanto individuare il nostro cammino quindi fare un percorso iniziatico chi sono perché sono qua dove devo andare chi mi ha chiamato e qual è la mia missione una volta che ho capito chi sono da dove vengo qual è il mio cammino qual è la mia missione e allora non mi devo fare condizionare da niente da nessuno cioè io devo avere la certezza della chiamata di Cristo quindi scendo sul personale ma sul mio personale posso scendere io quando sono stato chiamato all'età di 13 anni 13 ne ho 61 quindi stiamo parlando di 48 anni di vita così come la vedi io ho lo stesso entusiasmo che avevo nel dicembre del 1977 quando ho conosciuto Eugenio Sirogusa avevo 14 anni esatti ma da un anno facevo parte dell'opera quando ho visto il mio maestro io da quel giorno ho fatto una scelta ci sono stati momenti travagliati della mia crescita giovane ragazzo uomo adesso anziano ma non ho mai spostato di un millimetro la mia scelta mai nemmeno un secondo eppure sono stato giovane ho avuto le mie fidanzate ho fatto sport dieci anni ho fatto tanta radio come dj ho fatto tanti mestieri persino l'imprenditore ma sempre su questo cammino non mi ha dissuaso niente quando mi sono sposato io ho dei figli con delle mamme diverse alle loro mamme ho detto questa è la mia strada non mi ostacolate se no vi lascio io devo servire il padre il padre ha voluto da me dei figli che sono sacri e mi seguono tutti i miei figli ma non mi ostacolate perché io mi separo da chiunque tenta di ostacolare la mia missione che Cristo mi ha dato non lo so qual è il parametro sorella è la fede la certezza di essere nella verità però devi dimostrarlo a te stesso che è la verità altrimenti come ha detto prima Marco è fanatismo e esaltazione la certezza la puoi dimostrare con i fatti con i frutti sempre parlando della mia persona perché non posso parlare di te e di nessun altro fratello io ho visto i frutti di quello che la madre mi ha detto e il padre mi aveva detto di fare e sono qua il mondo lo devi abbandonare devi fare la differenza con tutte le persone che sulla terra hanno scelto il valore assoluto del denaro il denaro lo devi disprezzare odiare è il tuo nemico e semmai lo devi utilizzare schiavizzarlo a tuo favore per fare del bene per fare l'opera per non dipendere da nessuno ma non devi essere schiava del denaro quello è un valore che ci condiziona moltissimo senza il quale non possiamo vivere io non sono io non potevo arrivare qui oggi se io non avessi avuto il denaro in tasca ma nello stesso tempo ordino al denaro di non condizionare i sentimenti io amo la vita amo amo gli esseri che il padre mi ha affidato ho detto ho dei figli li adoro ma nessuno nemmeno loro mi devono condizionare nel servizio al Cristo ecco la materia non ti può condizionare nemmeno la salute se io ho una malattia e devo andare dove il padre vuole che vado ci vado anche se sono in procinto e di fronte alla morte se è vero lui mi salverà salve buonasera e volevo chiedere se prima del ritorno di Cristo si illuminerà Giove no si illuminerà dopo quando si stabilirà sulla terra il regno di Dio grazie prego volevo sapere anche gli astri sono fatti di idrogeno e di elio idrogeno il portatore di vita se ci sono altri portatori di vita principi oltre all'idrogeno e l'elio che funzioni fisico spirituale ha grazie l'idrogeno è la causa della vita dell'universo e all'interno dell'atomo di idrogeno c'è l'intelligenza onnicreante quello che voi chiamate spirito santo infatti da lì nascono tutti gli elementi chimici l'elio è un derivato quello che perlomeno dal punto di vista spirituale ti posso rispondere alimenta l'energia psichica è la forza trainante dell'energia psichica che è quella che serve a noi tutti per vivere senza la quale siamo tutti morti il sole non è solo energia calore elettromagnetica è anche e soprattutto energia psichica creativa prego prego ecco un attimo solo ragazzi siccome siccome prima è stato nominato eugenio abbiamo parlato di eugenio e giorgio ha detto che era con eugenio quando eugenio suonava la tastiera eccetera allora abbiamo una sorpresa che dura un minuto dove eugenio parla di te oh no mamma mia giorgio giorgio buongiovanni era un ragazzino quando veniva da me aveva 12 anni era piccolino aveva sentito parlare di me abitava a Flonibia e si è avvicinato e mi ha ascoltato attentamente non solo lui ma anche suo fratello Filippo Bon Giovanni e non per caso e hanno voluto collaborare pensate che anche quanto cominciò ad andare iniziò a fare il militare lui faceva trasmissione radio durante durante la vita militare ed incontrò durante un vecchio degli antichi giorni un mio caro amico che si chiama Pietro nella lingua biblica in questo tempo si chiama Durante sempre o Abismaili Durante e lo incontrò in un bar e lo guardò e gli disse bravo sei bravo e in compagnia di un altro appena disse ma guarda quel signore che bello in pace vanno per i cè e non lo trovo era sparito quindi era stato scelto era stato scelto perché è stato un ragazzo che mi ha voluto veramente tanto bene mi ha seguito nelle mie peripezie nei miei dolori nei miei affanni nelle mie persecuzioni che ho avuto nelle offese e allora è il mio testimonio è il testimonio della verità ma di una verità a cui io tengo tantissimo che è quella di Fatima ha detto la verità e Eugenio io gli ho voluto tanto bene e lo dimostra quando lui è stato costretto dal padre ad allontanarmi a isolarmi perché il padre gli aveva ordinato di farlo e lui l'ha fatto sapeva il padre che Eugenio era la persona e l'amore più grande di tutta la mia vita più dei miei genitori più dei miei figli più di mia moglie più di mia madre più di mio padre non c'era amore più grande di quello che io ho provato per questo uomo e anche mio fratello ma mentre mio fratello non è stato giustamente scacciato io sono stato allontanato per una volontà di Dio che era quella di vedere ad Oniesis se io ero fedele se io fossi rimasto fedele anche privandomi della persona che io ho amato più di tutto e più di tutti nella mia vita anche rispetto al mio sangue e a Oniesis ha avuto la prova che io sono fedele fino alla morte a lui solo a lui per questo mi ha scelto ad Oniesis perché io non ho lasciato la missione non ho lasciato la mia verità che Eugenio mi aveva dato e lo so che per voi è difficile capirlo perché voi non conoscete il padre io sì se il padre se il padre ha abbandonato suo figlio nel Gezzemani io che sono una scarpa vecchia di fronte a Gesù come potevate pensare che non mi abbandonasse per poi riprendermi e farmi suo strumento oggi io ho avuto il mio piccolo Gezzemani ma non ho detto signore vattene signore sia fatta la tua volontà ma credetemi stavo per morire quando Eugenio mi disse devi allontanarti da me sì sono quasi morti e sono risuscitato e quindi è vero quello che ha detto lui gli ho voluto tanto bene davvero e non mi pento affatto e poi mi ha trasmesso la conoscenza se io sono quello che sono è perché Eugenio Siragusa mi ha dato la conoscenza l'agnosi adesso Daniesi si lavora su un personaggio che come il maestro prima mi hai detto che mi ha gioito il suo volumetrico sapere della musica ecco a me mi ha dato Eugenio adesso Doniesis lavora su un pianoforte accordatissimo grazie grazie Giorgio prego questi sono momenti molto preziosi grazie veramente prego caro allora c'era il signore che voleva chiudere o se ci sono altre domande io di mestiere faccio il servitore finché ci sono domande c'è Doniesi che rispondo buona buonasera io vorrei vorrei sapere il tuo rapporto con la chiesa cattolica perché avevi detto che sei cattolico e volevo sapere questa cosa in effetti io sono se si poteva ecco magari cercare di fare in modo di sensibilizzare più persone possibili anche in base a ecco che ti devo dire dal punto di vista delle delle del meeting di Rimini se qualcuno ti invitasse tu saresti disposto a venire al meeting di comunione e liberazione a parlare certo che sarei disposto perché no per quanto riguarda adesso il pellegrinaggio magari in macerata Loreto che è stato fatto adesso c'erano molte persone lo sai io vorrei a parlare al meeting di comunione e liberazione io non lo so se poi però voi ascoltereste perché io parlerei della corruzione della chiesa della pedofilia nella chiesa del riciclaggio dei dei miliardi della mafia nella banca del Vaticano e parlerei in difesa di Papa Francesco tutto ciò che è l'antitesi di comunione e liberazione ho capito ho capito sì sì per carità io però io andrei ecco io era soltanto no andrei davvero e per quanto riguarda invece aiuterei i fratelli di comunione e liberazione a conoscere la verità che magari non sanno va bene va bene ok e prenderei le voci del Papa che loro non sono tanto simpatici col Papa questo Papa lei lo sa mi sembra no e quindi se loro mi invitano io ci vado e sarò una persona tra le più cattoliche e la più ortodosse della Chiesa Cattolica Apostolica Romana lo sono io perché io credo nei Santi credo nel battesimo credo nella comunione credo nei missionari cattolici credo in Padre Pio credo in tutto ciò che la Chiesa Cattolica manifesta del corpo di Cristo ma sono anche in forma molto violenta contro la corruzione della Chiesa contro la mafia nella Chiesa contro la pedofilia nella Chiesa contro la ricchezza scriteriata e assurda di tutti i benpensanti e i perbenisti che ci sono nella Chiesa Cattolica la Chiesa è dei poveri non sono contrario alla ricchezza sono a favore della ricchezza se la metti a disposizione dei tuoi fratelli mi pare che i cardinali tranne il Papa quasi nessuno mette a disposizione la sua fantastica ricchezza a favore dei fratelli quindi mi scaccerebbero dopo 5 minuti da Rimini secondo me però se mi invitano io vado dovunque mi chiamano anche all'inferno se mi chiama Satana io scendo giù e parlo ai diavoli e li converto a Cristo mi diceva il mio maestro quando non hai più niente da perdere hai 100% di probabilità di vincere prego Giorgio sono qui non ti vedo ma ti sento eccomi sono qui volevo chiederti ci vuoi interpretare il Padre Nostro secondo i principi della scienza dello spirito recitarvelo? no interpretarlo sì io ho scritto sette precetti di Adoniesis che potete leggere sul sito te li sintetizzo Padre Nostro che sei nei cieli e si riferisce al sole e a tutti gli astri del cielo che con la loro energia creante danno vita a tutto il cosmo senza i soli non potrebbe esistere la vita quindi Padre Nostro che sei nei cieli altrimenti avrebbe detto Padre Nostro che sei nei cieli e sulla terra che è anche sulla terra il Padre ma in quel caso Gesù voleva indicare il sole il sole luce divina luce spirituale luce solare sia fatta la tua volontà è chiarissimo come in cielo come in terra cioè non ostacoliamo i disegni divini perché il Signore non esprime la sua volontà solo nel cielo nel suo regno ha un disegno sulla terra e quando Cristo dice sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra e perché vuole che si adempiano i disegni di Dio sulla terra con il nuovo regno quando Gesù dice sia fatta la volontà come in terra così in cielo come in terra cioè venga il tuo regno lo ripete anche alla fine di questa fantastica preghiera da ciò oggi il pane quotidiano significa non farci mancare la linfa vitale della verità e l'essenza di Cristo che si concretizza nel grano nel pane nella comunione nel sangue cioè il vino rimetti a noi i nostri debiti e la legge del karma come noi rimettiamo ai nostri debitori chiarissimo si riferisce alla legge di causa ed effetto non ci indurre in tentazione e l'hanno cambiata la preghiera e hanno sbagliato ma il significato in aramaico è non ci indurre in tentazione significa che Dio ti induce in tentazione attraverso il diavolo per fortificare la tua fede ma liberaci dal male il male non è inteso che siamo tutti demoni il male è la materia cioè quella che ti condiziona la vita dello spirito questo sinteticamente prego Amen ma leggetevi i sette comandamenti che Adoniesis mi ha fatto scrivere sul sito sono molto belli molto interessanti che sono tutto ciò che dobbiamo fare i dieci comandamenti non uccidere non dire fasta testimonianza non ci sono due tre soli onore il padre e la madre invece in questi sette c'è sostieni giusti ami i tuoi fratelli proprio il sette e il venti il contrario complementano i dieci comandamenti di Mosè questi sette che ho scritto io li complementano non è che li sostituiscono e attenzione prego ciao Giorgio sono qui non so se mi vedi ti sento io volevo chiederti guardando insomma le notizie che ogni giorno sentiamo una televisione vediamo una decadenza sempre maggiore per quanto riguarda i potenti e la politica insomma che ci governa a livello sia nazionale che internazionale volevo chiederti come mai magari a livello spirituale una spiegazione c'è questo decadimento così importante dei valori etici della politica e dei valori proprio insomma che governano il nostro mondo addirittura la pace sembra essere una cosa oggi lontana anche nel 2024 rispetto a quello che dovrebbe essere una pacifica convivenza dei popoli ecco e poi cosa possiamo fare noi come piccolo gruppo delle arche per cercare di combattere insomma questo questo decadimento grazie noi stiamo vivendo l'apocalisse caro fratello l'inizio dell'apocalisse finale e l'apocalisse nella Bibbia è testimoniata con la grande caduta della Babilonia caduta caduta e la Babilonia si riferisce alla chiesa materiale e alla società materiale invece la chiesa spirituale e la società spirituale vinceranno dobbiamo essere attivisti nella piazza sostenere i giovani nelle proteste per i diritti umani i diritti civili la lotta la mafia contro la guerra darci da fare in questo senso sapendo che non salveremo niente ma Gesù nel giudizio dirà voi siete stati giusti e risvegliare le anime quello che fa Marco Marsili Pier Giorgio io nel mio piccolo dare la conoscenza quella di cui stiamo parlando stasera conoscenza portata da esseri di altri mondi dai nostri maestri soprattutto dal Cristo e fare del bene volerci bene tra di noi e fare del bene aiutare chi ha bisogno noi abbiamo una grande responsabilità per amore nostro ancora il Padre non ha distrutto il mondo quindi si ancora tira la corda perché si devono risvegliare le ultime anime questo dobbiamo fare poi essere pronti a dare tutto altrimenti non andremo nel regno di Dio davanti l'ultima domanda tanto io me la allungo io buonasera a tutti e benvenuti in Umbria sono etno vengo da Spello e per me invece io chiederei un aiuto per capire qual è anche il mio percorso e la mia missione perché vi devo dire grazie che avete chiuso il cerchio di quello che mi mancava voi siete stati quelli che mi hanno aiutato a capire qual era la mia completezza solo che adesso vedo tutto questo questo lavoro da compiere e quindi ho quella insicurezza di dire che e chiedere aiuto per capire come posso essere più efficace per la causa se senti di seguire la nostra causa la mia preparati e rifletti tanto conosci qual è la mia causa credo altrimenti non saresti qua però ti posso dare solo questo input poi il resto lo devi fare da solo e noi ti aspettiamo per seguirmi nel caso specifico mio di questo messaggio del quale ovviamente Marco è uno dei protagonisti ricordati sempre che il padre ti fa fare quello che non vorresti fare ti fa andare là dove non vorresti mai andare e vuole che tu dica quello che vorresti tacere questa è la formula per seguirmi e seguire questa causa è quello che mi sta accadendo benissimo e allora vai grazie grazie io vi ringrazio sono felice di essere in mezzo a voi appunto quello che lui dice sempre posso dirvi solo che sono stato bene con voi tanto e ci ritornerò ogni volta che voi mi chiamate io sono qui per servire grazie grazie giorgio grazie per aver partecipato a questo incontro hai dato una svolta alla giornata che sarebbe andata diversamente se non avessi tu accettato di partecipare quindi grazie ci hai portato grandi insegnamenti dal cielo alla terra grazie grazie